Apprezzate i vostri doni unici. Esamineremo un altro prezioso dono, il sofisticatissimo sistema sensitivo. Ne fanno parte le mani, gli orecchi, gli occhi e ovviamente l'eccezionale cervello. Prendiamoli in esame uno ad uno. L'orecchio. Anche se certi animali possono udire suoni che a motivo della loro frequenza sono impercettibili agli esseri umani, gli esperti del suono affermano che l'orecchio e il cervello dell'uomo formano un binomio formidabile. Il nostro udito ci permette di determinare intensità, altezza e timbro di un suono e di calcolarne con buona approssimazione la direzione di provenienza e la distanza della sorgente. Per chi non ha disturbi dell'udito, la gamma delle frequenze percepibili dall'orecchio va grossomodo da 20 a 20.000 Hz, cicli oscillatori al secondo. La fascia più sensibile è quella compresa fra 1000 e 5000 Hz. Inoltre, è possibile riuscire a distinguere quando un suono varia anche di un solo Hz, per esempio, da 440 a 441. Addirittura, salvo disturbi, l'orecchio è così sensibile che può rilevare un suono anche quando lo spostamento dell'aria in prossimità del timpano è inferiore al diametro di un atomo. Stando a un corso universitario, la sensibilità del sistema uditivo umano si avvicina ai limiti imposti dalle leggi della fisica. Non servirebbe a molto avere una sensibilità al suono molto maggiore, perché in tal caso, non udremmo altro che un fruscio prodotto dal movimento casuale degli atomi e delle molecole che compongono l'aria. Le vibrazioni del timpano vengono amplificate meccanicamente e trasmesse all'orecchio interno tramite l'azione di leve, tre ossicini che prendono il nome di martello, incudine e staffa. Ma cosa succede se l'orecchio viene improvvisamente raggiunto da un suono assordante? In questo caso, scatta un meccanismo protettivo che consiste nell'azione di muscoli che regolano il movimento degli ossicini attenuando la forza del suono. Comunque, l'orecchio non è in grado di resistere a rumori forti e prolungati. L'esposizione a questo tipo di rumori può recare danni permanenti all'udito. Abbiate quindi cura di questo meraviglioso dono del creatore. Il sistema uditivo vi permette anche di identificare la sorgente di un suono. Il segreto sta in una molteplicità di fattori, fra cui la conformazione a conchiglia dell'orecchio esterno, i suoi solchi, la separazione dei due orecchi, nonché la straordinaria capacità di calcolo del cervello. Grazie a questo, se l'intensità di un suono diminuisce leggerissimamente da un orecchio all'altro, o se il suono raggiunge un orecchio anche solo 30 milionesimi di secondo prima dell'altro, il cervello farà in modo che gli occhi si rivolgano subito verso la sorgente del suono. Immaginate di dover fare tutti questi calcoli in modo cosciente. Come minimo, dovreste avere conoscenze di matematica avanzata e saper fare calcoli in un baleno. Se un ingegnere riuscisse a realizzare un sistema uditivo che si avvicinasse anche solo in minima misura a quello che ci è stato dato dal creatore, riceverebbe molte onorificenze. Ma quante volte vi capita di sentire qualcuno che dà onore a Dio per le sue meravigliose opere? Spesso gli ingegneri progettano scanner e computer insieme al relativo software. Ma questi sistemi hanno un grado di integrazione e un livello di sofisticazione molto inferiori rispetto al nostro sistema sensitivo. Chiedetevi. È ragionevole attribuire al cieco caso questo sistema nettamente superiore, come fanno gli evoluzionisti? Ha detto lo scienziato Gerald Schröder. La scoperta di meccanismi complessi in precedenza inimmaginabili ha sfidato la teoria semplicistica dell'evoluzione casuale della vita. E ha aggiunto. Se Darwin fosse stato a conoscenza dell'intelligenza nascosta nella vita, credo che avrebbe proposto una teoria molto diversa.